ciao sono Gianluca Bocci e ragazzi devo dirlo è un periodo davvero pieno di soddisfazioni il canale sta crescendo siete tanti vi ringrazio mi raccomando aggiungetemi anche su Instagram perché effettivamente vorrei arrivare alla soglia dei 10.000 utile per raggiungere funzione cercatemi come Gianluca.bocci ma la soddisfazione è anche che mi stanno mandando le aziende dei prodotti da sogno prodotti che purtroppo poi devo restituire ma la vita è dura e bisogna affrontarla quindi dovrò restituire le cuffie della Spirit Torino cuffie da 2.600 e passa euro che rimando qui sopra e purtroppo devo restituire anche questo spettacolo di fotocamera la Leica M10 di costo del corpo al momento 7.690 con il suo summicron sono alti 3.000 euro quindi ho in mano 11.000 euro che se mi cade sono rovinato e sono comunque già rovinato perché sono passati i ladri in casa e hanno rubato il display no sto scherzando la particularità di questa fotocamera quella di dopo Leica M10 sta per appunto perché senza display quindi come dice lo slogan di Leica riporta l'esperienza analogica nel mondo della fotografia digitale quindi se noi non colleghiamo lo smartphone vi farò vedere dopo si scatta effettivamente come una volta tu prima facevi 36 foto ti sparavi tutto il rullino e solo tornando a casa sapevi se avevi combinato qualcosa di dignitoso oppure no e non solo la bravura del fotografo professionista era proprio quella quella di controllare così bene il suo strumento il suo mezzo per raccontare la sua visione della fotografia e quindi riuscire a portare a casa ottime foto senza poterle controllare a questo però mi ricordo quando ho fatto un workshop nel 2012 con Enrico DeLuigi Chico DeLuigi grande fotografo di Rimini che faceva questi no panic workshop in cui cosa faceva metteva un pezzo di nastro adesivo sopra il display della fotocamera dicendo ai suoi lievi tra cui c'ero anch'io non fate la foto e controllatela cercate di tenere sempre gli occhi sul soggetto e seguire quello che sta succedendo perché ovvio se faccio una foto e abbasso gli occhi e controllo il risultato in quel momento potrebbe succedere qualcosa di importante quindi mantenere sempre la concentrazione su quello che sta succedendo davanti alla fotocamera non sulla fotocamera e questa fotocamera in maniera se vogliamo anche un po' ruvida ci costringe a tenere l'attenzione appunto su quello che succede davanti perché il display non c'è ma andiamo per ordine perché è un oggetto davvero fantastico e il suo essere fantastico inizia proprio dalla confezione eh sì non nascondo che sono davvero emozionato di andare a aprire la confezione che contiene una laica apriamo parte sopra si scatolona grigia come di regola e eccola qui laica m 10 d andiamo aprire anche la bella confezione interna senza fare danni possibilmente oh guardate come si apre spettacolo ragazzi allora leviamo la parte sotto grigia e lasciamo il cofanetto nero applauso per il modo in cui si apre ragazzi guardate qui marchio laica in grigio altra scatolina c'è un effetto matrioska che è stupendo indicazione qui ci sono dei cassettini ragazzi cioè non so se mi spiego vado un attimo a rimettere a fuoco per essere sicuro che vediate tutto bene e qui abbiamo cioè guardate ragazzi che sciccheria dentro queste custodiette allora la tracolla in pelle la metto un attimo da parte qui in quest'altra bustina abbiamo il carica batterie e lo mettiamo qui in quest'altra con il doppio nodo ragazzi durante l'unboxing sono già emozionato se mi fate i nodi sono perso abbiamo tutta la cavetteria caspita questa particolare in dotazione anche il carica batterie per macchina quindi presa italiana presa inglese e uso automobile quindi se siamo in viaggio non abbiamo problemi l'ultima la bustina quella più piccolina sì giustamente questo è molto importante la batteria ragazzi che spettacolo di packaging spero ve l'ho detto bene in inglese e qui abbiamo in manualistica abbiamo tre mesi per adobe creative cloud la garanzia varie cosettine the international like a society e presuppongo quest'ultimo un po agganciato sì manuali di istruzioni in tedesco e in inglese ma penso che voi siete curiosi e vado a togliere anche tutto il resto di vedere il contenuto di lei la scatolina grigia andiamo infatti a zoomare e rimettere a fuoco e andiamo a rimuovere la parte superiore la plastica un pochettino toglie la magia e l'atmosfera ma sto facendo l'unboxing di una laica m per me sapete bene la mia immagine di copertina è un sogno che si realizza bene ragazzi bella è davvero bella e a cosa l'andiamo ad affiancare giustamente in questa prova un unboxing meno emozionante infatti la farò maniera molto veloce il summicron 35 f2 con la sua bellissima custodia in pelle che apriamo rapidamente è un gioiello perché davvero di dimensioni minuscole l'avevo già sbirciato prima di iniziare a registrare con il suo paraluce guardate che gioiellino e sì la prova sarà di questi due oggetti messi insieme adesso vado a caricare le batterie legge le istruzioni e poi iniziamo a parlare insieme su come funziona eccola qui bella pronta con le batterie ben cariche attenzione senza batterie cariche non funziona giustamente perché sì dietro non c'è il display ma è una digitale a tutti gli effetti questo richiamo estetico della leva di carica in realtà è soltanto un thumb rest quindi un appoggio per il pollice onestamente è l'unico dettaglio estetico e non mi ha convinto tantissimo perché in realtà c'è già un comodo appoggio per il pollice anche nella posizione più corretta per impugnarla saldamente e si impugna bene una mano anche se non è leggera c'è tanto metallo e si sente questo è un richiamo estetico e parendo è doveroso la mia leica m3 personale per farvi vedere in maniera evidente come questa fotocamera la m3 è stata costruita tra il 53 e il 67 questa è una macchina invece del 2018 a distanza quindi diciamo circa di 50 60 anni comunque il design è quello qui c'è il nottolino che serviva per riavvolgere il nastro qui c'è il nottolino e faccio notare poi questa particolarità che è evidenziato in rosso comunque possiamo scegliere la sensibilità da automatico i vari valori dai 100 fino a 64 oppure andare in manuale in manuale possiamo spingere fino ai 50.000 ma solo tramite l'app ma ve ne parlo tra poco quella che era la ghiera dei tempi rimasta qui la ghiera dei tempi si spinge fino a un 4 millesimo l'ottolatore è a tendine metalliche qui era un tessuto fra ciò di tra poco la leva di carica appunto è diventata questo appoggio per il pollice qui c'era la bellissima finestrella per il contatore dei fotogrammi al suo posto ci stanno un paio di tasti funzioni ne abbiamo uno qui uno qui davanti e anche una classica ghiera questi in realtà servono soprattutto per l'utilizzo tramite l'app oppure con il mirino elettronico visoflex infatti la slitta flash ha in fondo non so se riuscite a vederli bene dei contatti elettrici quindi può tornare ad essere una mirrorless classica con un mirino elettronico quindi tendine sempre aperte e lì possiamo utilizzarla in maniera classica anche con il focus peaking quindi l'utilizzo più tradizionale ma poi vi dicevo richiami sul retro vedete questa parte qui che troviamo sull'M3 qui viene richiamato come l'accensione in questo modo è successa la spia rossa l'attivazione del wifi spia verde e subito sotto la compensazione sia negativa che positiva terzi di stop fino a più o meno 3 stop restando sull'operazione nostalgia vi faccio vedere che come sulla Leica M3 l'accesso per cambiare il rullino di una scomodità pazzesca ma comunque se ce l'ha fatta i nostri grandi fotografi storici ce lo potevo fare anch'io in questo modo con questo sportello che si apre per appunto far passare la pellicola qui stesso discorso sempre questa parte da sganciare al suo interno abbiamo lo slot per la scheda di memoria e per la batteria qui sotto abbiamo anche il QR code per l'accompiamento appunto in wireless detto questo voglio farvi vedere un attimo cosa troviamo sotto l'ottica leviamo questo splendido summicron M35 barra 2 e vediamo appunto le tendine metalliche qui il lettore praticamente della codifica ha 6 bit questa parte qua sopra che è appunto quella che fa funzionare il telemetro tra poco ve lo mostro e sotto questo non so se riuscite a vederlo il diodo che va a leggere l'esposizione sulle tendine vedete le tendine sono in nero grigio scuro grigio chiaro non è a caso perché appunto anche quando lavoriamo senza smartphone poi vi spero tra poco sentendo con lo smartphone abbiamo comunque l'esposimetro che funziona molto bene una lettura ponderata al centro e la differenza se andiamo a vedere invece la nonnina intanto ho perso qualche pezzo vedete le tendine in tela ma le differenze sono tutte lì la cosa bella è che obiettivi moderni e obiettivi anche vecchissimi come appunto questo Elmar 50 3.5 5 cm anzi detto bene può essere utilizzato unica attenzione questo è retrattile attenzione all'interno non possono essere utilizzati nella modalità retrattile vi faccio vedere questa chicca perché è un pezzo di storia quando era utilizzato sulla sua M3 poteva diventare un oggetto davvero piatto ma adesso vi faccio vedere un attimo com'è la visuale all'interno del telemetro bene quella che vedete è la visuale all'interno del mirino infatti vi sto a vedere in basso a destra l'ottica che si intravede nel mirino e vedete la cornice del 35 mm che si sposta quel 125 che vedete in basso è il tempo letto andando a premere il tasto funzione posso passare a far vedere la percentuale di batteria che è al 75% come vedete al centro c'è un riquadro con immagine sdoppiata vado verso il muretto quando le linee sono perfettamente sovrapposte come in questo senso allora si siamo pronti per scattare e via e rimangono 611 scatti disponibili come vedete è tutto riportato in quell'uniche cifre a otto segmenti in basso volendo col selettore anteriore possiamo cambiare quelle che sono le cornici quindi prima di andare a cambiare ottiche se le abbiamo pronte nella nostra borsa fotografica possiamo scegliere dalle cornicette quelle che sono quelle più opportune ma adesso passiamo un attimo all'app finalmente siamo connessi con l'app ho sottolineato finalmente perché almeno nel mio caso con dispositivo Android, Motorola, Moto Z3, Play ho sempre grosse difficoltà tante volte non riesce a collegarsi comunque ci mette tantissimo tempo per visualizzare il wifi vedete si chiama Leica M10 trattino numero seriale e comunque la connessione dati deve essere esattivata altrimenti non ci sono santi, non funziona però magari su iPhone che purtroppo non posso provare funziona molto meglio comunque vedete abbiamo subito la visione su tutte quelle che sono le foto all'interno che possiamo scorrere, andare a ingrandire assolutamente come vogliamo e possiamo andare appunto a scaricare sull'interno del telefono vedete in formato cpeg, belle pesanti ma vi ricordo che abbiamo 24 megapixel full frame in formato raw oppure entrambe ma la cosa più importante è che solo tramite smartphone possiamo fare la maggior parte delle impostazioni andiamo su setup e se vogliamo farci un autoscatto con gli amici quindi andiamo a prendere il drive l'autoscatto a 12 secondi solo tramite smartphone se abbiamo dimenticato lo smartphone a casa o se non vogliamo portarci dietro è impossibile farci un autoscatto stesso discorso se vogliamo cambiare il bilanciamento del bianco possiamo farlo solo tramite app non possiamo farlo direttamente sulla fotocamera io avrei preferito che ci fosse stato un bel display qui dietro e tramite comunque ghiere pulsanti qualche piccola impostazione magari con un bel OLED monocromatico andarle a fare direttamente comunque da qui quindi possiamo fare tutte le impostazioni che vogliamo purtroppo abbiamo sul jpeg possiamo attivare il jpeg possiamo attivare il bianco e il nero ma non possiamo scegliere saturazione contrasto cioè un minimo di controlli su quello che è la resta del jpeg ma possiamo comunque rifarlo dopo passando per il raw sempre da qui possiamo tornare e andare sul remote quindi diventa un vero proprio live view vedete che sto girando la fotocamera comunque funziona la messa a fuoco con tanto di ingrandimento appena andiamo a toccare appunto la ghiera di messa a fuoco che vediamo qui insomma faccio un mini selfie adesso sono in modalità zoomata eccomi qui ciao ragazzi si funziona tutto bene e da qui possiamo scegliere come sempre la compensazione di esposizione cambiare il tempo di scatto cambiare la sensibilità il diaframma no perché il diaframma giustamente è quello che troviamo qui sopra ve lo faccio vedere anche in questo modo che è scenografico tutto chiuso e voilà tutto aperto tutto molto interessante faccio partire lo scatto vedete e tornando indietro una foto suffocatissima ce l'abbiamo subito pronta quindi in un certo senso potremmo anche prendere e fare torno in remote mettere con il nastro adesivo qui il nostro smartphone e abbiamo il display purtroppo altra pecca dell'app non funziona mai in orizzontale soltanto in verticale come dire teniamo la fotocamera con la mano destra e con la mano sinistra andiamo a scattare appunto in questo modo bene penso che sia il momento di andare a vedere i risultati che sono usciti dalle mie prove fotografiche allora innanzitutto c'è a dirlo che figata scattare con il brivido di non poter sapere subito se la foto l'hai fatta come l'hai pensata oppure no ovviamente possiamo sempre lasciare attivo il wifi se vogliamo ma attenzione in questo caso la batteria va giù molto rapidamente con il wifi sempre attivo sono sceso dal 100% al 20% quindi la batteria si è succhiata l'80% in soltanto 115 scatti ma con il wifi sempre acceso con il wifi spento invece la batteria è praticamente infinita scatti 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 e anche giusto che sia così a parte l'esposimetro e la retroilluminazione con tanto di sensore dell'università davanti del mirino a telemetro altro non c'è da alimentare quindi non consuma nulla l'autofocus siamo sempre noi col dutino che spostiamo la messa a fuoco detto questo guardiamo appunto i risultati iniziamo da un paesaggio vi mostro il JPEG così come esce la fotocamera buono di per sé l'unica cosa è la saturazione un po' eccessiva ma in questo caso passare per il DNG per ottenere un cielo azzurro che sia un po' meno brillante esplosivo per il resto si apprezza la tridimensionalità di questo Summicron davvero eccezionale lui si apprezza ancora di più in questo ritratto della mia piccola Agnese ripresa dall'alto vedete che bello sfocato esternamente e gli occhi perfettamente nitidi e con uno splendido contrasto appunto la firma della resa delle ottiche laica andiamo avanti perché un altro vantaggio di questa fotocamera è la silenziosità dello scatto provo a farvelo sentire vicino al microfono non so se avete sentito è un suono di per sé ovattato come era ovattato anche sulla storica M3 però qui è un suono più verso le frequenze alte quindi più percepibile se siamo molto vicini al soggetto della foto qui siccome è un tono molto basso grave e comunque ovattato è quasi impossibile farci percepire infatti qui ero vicino a un cagnolino che aspettava la padrona dentro la penetteria non mi ha assolutamente sentito ancora più particolare mi sono messo a camminare dietro a un curriere di Bartolini e non ha sentito che gli stavo scattando delle foto a distanza tale che potevo allungare un braccio appunto a grand'angolo e dargli una lucatina questo sarebbe stato rischioso perché bello grosso il tizio ma restando in tema di bianco e nero che quando si parla di laica vuoi non fare qualche bel bianco e nero questo è il bianco e nero appunto come generato la fotocamera vi propongo altri due scatti un po' un cliché nella fotografia i manichini sulle vetrine però mi hanno colpito questi manichini menomalti con questo volto appunto triste nella sua menomazione e nell'indifferenza della sua compagna di sofferenza una lettura fotografica abbastanza particolare e poi per me inquietantissimi questi bambini di negozi di abbiamento appunto per bimbi con questo bimbo che sembra quasi un piccolo bambino Gesù che guarda verso l'alto visione mia un po' particolare tranquilli non ho mangiato né bevuto cose troppo strane questi giorni o almeno credo andiamo avanti a guardare la resa alle varie sensibilità la sensibilità minima sono i 100 ISO e ovviamente resa davvero fenomenale saliamo 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1600 ISO a 3200 ISO compare una grana che aumenta come presenza man mano appunto che continuiamo a salire ma una grana comunque sempre molto naturale che ricorda molto la resa della pellicola della nostra buona cara vecchia pellicola 6004 12500 ISO secondo me 12500 ISO è il massimo valore su cui lavorare possiamo salire ancora ai 25000 e 50000 ISO ma lì onestamente si nota in maniera evidente la riduzione del rumore che alcuni dettagli tipo la peluria del peluscio della giraffa tendono a scomparire e compaiono anche alcune chiazze colorate quindi insomma anche la coerenza cromatica si è persa sono davvero sensibilità limite quindi secondo me si lavora bene tra 100 e 12500 ma adesso giustamente pacelline eh già questo video è bello lungo ma alcune cose volevo proprio farvele vedere non potete immaginare che impazzimento è stata fare la ripresa all'interno del mirino di questa splendida Laica M10D ma andiamo per ordine su quello che mi è piaciuto allora innanzitutto il coraggio vero e proprio di questa azienda di produrre un prodotto che non può altro che provocare polemiche quando uscì la prima serie che era una prima serie limitata appunto di questa Laica senza display tutti a dire la classica battuta eccoli arrivano loro levano un pezzo e ce lo fanno pagare di più questo è vero perché effettivamente la Laica M10 con il display costa 7025 euro questa senza display costa 7690 quindi 650 euro in più per avere un pezzo in meno ma appunto è un qualcosa di prestigioso di particolare è stata creata comunque una calotta appositamente per lei quindi anche se vogliamo una spiegazione del suo prezzo ma un prodotto comunque davvero difficile con alcune scelte design come questa levetta che è un po' una forzatura un prodotto davvero estremo ma appunto si apprezza il coraggio la seconda cosa che apprezzo è il fascino è un oggetto talmente particolare come idea come scelte davvero spinte dietro di lui che non puoi altro che apprezzarlo l'utilizzo questa costrizione di non poter vedere i risultati il fatto appunto di trovarsi col telemetro che vi assicuro io già lo conoscevo appunto utilizzando la mia Leica M3 ma il telemetro non è così facile perché comunque hai soltanto una cornicetta che ti dà un'indicazione approssimativa di dove stai puntando la fotocamera e quindi gli elementi sui bordi potrebbero comparirti di più o di meno di quelli che ti aspetti la messa a fuoco non è direttamente correlata quindi magari tu vedi nel mirino sì ho messo a fuoco poi quando andrai a vedere più tardi il risultato dello scatto cavolo ho sbagliato la messa a fuoco perché soltanto nel piccolo rettangolino centrale ti rendi conto di quello che stai facendo avere un display se sbagli la messa a fuoco la rifai un'altra di foto sempre se il soggetto non è scappato via qui invece rischi di non rifare la foto quindi un fascino di fotografia davvero che ci riporta indietro di 50-60 anni ultima cosa comunque è una Leica con un ottimo sensore e con le sue eccezionali ottiche quindi i risultati ci sono ci sono sempre specialmente lavorando in raw semplicemente perché il jpeg non è così facile a configurare comunque configurabile solo tramite la sua app da raw vengono fuori davvero cose eccellenti e invece cos'è che non mi è piaciuto ragazzi no non sono stati banali non dirò che non mi piace il fatto che non c'è un display sul retro però effettivamente c'è da dire due cose uno il wifi almeno sottolineo con android con il mio motorola non funziona bene consuma tantissima batteria prende e spesso non si connette quindi diventa frustrante vuoi andare a impostare due cose in più con il tuo cellulare non ci riesci vuoi andare a vedere le foto con il tuo cellulare non ci riesci insomma questo wifi secondo me o a livello di fotocamera da giornale con firmware oppure a livello di app per stesso discorso l'app andrebbe aggiornata seconda cosa ci avrei visto comunque un piccolissimo display monocromatico oled quello che vogliamo su cui fare due o tre piccole impostazioni tipo la scelta del bilanciamento del bianco la scelta dei valori ISO se voglio andare sopra i 6400 che trovo da rotella due o tre impostazioni più carine che leggerle magari sull'unico display che sarebbe quello all'interno del mirino quelle tre cifre che sono davvero poco poco chiare bene ragazzi sono curioso di sapere nei commenti chi di voi potrebbe permettere sapete che a questo punto ragazzi voglio che diventate i miei carissimi amici e se effettivamente qualcuno di voi come me ha una laica in casa questa me la sono punta per mettere se volete vi tolgo la curiosità l'ho pagata 700 euro ottica inclusa da new all camera e visto che parlo di new all camera vi rimando qui sopra anche la prova della M10D fatta dal mitico Watanabe appunto di new all camera bene ragazzi vi ringrazio per la pazienza che vi ha portato fin qui ciao a tutti e dalla laica e da Gianluca al prossimo video